Butterbean è di cash e tra l'altro oh ancora il testo qua questo è stato un bel pugno ed è finito lungo e disteso Monaco tra l'altro gli occhi davvero di chi ha avuto le lampadine spente e vedete festeggia a suo modo quindi KO alla prima ripresa per Butterbean